Ciao a tutti, allora, terza puntata del carcio mercato esistivo del Livorno e diciamo che ci sono aspettato, ma diciamo un po' più giorni per fare il video come nel precedente e diciamo che in confronto alle cose successe nel mese di luglio, generalizzando diciamo che il Livorno si è dato un po' più da fare, ecco, soprattutto dal punto di vista degli acquisti anche se ci sono state delle cessioni, ecco allora, innanzitutto parlio partire appunto da quest'ultimo, dalle cessioni allora, diciamo, la cessione quella un po' più importante, a parer mio, è stata quella di Donisi che, nonostante tutti, abbiano detto, boh, mi dispiace, mi è piaciuta in mente non so, se qualcuno mi ha già seguito dall'inizio dell'altro anno, ovvero da Livorno a Roma io non ho mai parlato benissimo di Donisi, sono d'accordo che in Serie B, cioè, due anni fa non si è comportato male, ha fatto qualche gobono per il Livorno però, diciamo che, non lo so, non lo so, ora io sinceramente allogio, dato che la notte viva spero che, detto volgarmente, faccia calcolo col frosinone, però diciamo che un minimo mi dispiace perché la Serie B non era male, però non era nemmeno quel grandissimo giocatore, ecco, un po' però, questo sì, secondo me e niente, poi, passando un po' a, cioè, invece agli acquisti, diciamo che appunto a Livorno è stato dato soprattutto ad affari, come ho già detto e, diciamo, l'acquisto importante che sono arrivati sono, diciamo, quattro, anzi, diciamo tre in mezzo perché uno l'avevo già annunciato, però c'è stata l'ufficialità qualche giorno fa cosa che fra l'altro mi fa fancare la figuretta, un po' di cacca perché l'avevo già dato per ufficiale già nel periodo, insomma, del precedente video e invece, dato per tutte le volte, giornale, preso, preso, preso e poi, o viene dopo, un mese dopo o al fine non viene nemmeno insomma, vi sto riferendo a M.Cond, la regina poi sono arrivati sul Raco e poi, secondo me, è un artigiatore che può essere utile e abbastanza promettente non so come si pronuncia Gelenici, Gelenici, insomma, da Arpadova classe 1992 e poi, diciamo, quello un po' più importante che, leggendo un po', diciamo, i siti che io guardo maggiormente ma dove voglio un po' informare perché, perlomeno, come ho già detto, sono veri lì che nonostante il Livorno sia il ZRB, come anche le altre squadre ogni giorno pubblicano un totte notizie non come altri, appunto, siti giornali che ne pubblicano una ogni morte di papa comunque Jefferson Jefferson è un preso da Latina non mi ricordo se, da versi sincero se l'ha comprato o era già preso a parametro zero e, appunto, l'anno scorso gioiava nella Latina non mi ricordo e, niente, l'attaccante che, appunto, io l'ho visto ce l'ho visto come dicevo, ho letto sui tizi che è abbastanza casato perché, beh, ora fa discursione, eh che fa voglio tornare con Livorno in Serie A speriamo, certo, lo speriamo tutti questa serie però, diciamo che secondo me, se parti bene se va fa tanto è già un buon punto, ecco tornando al discorso, diciamo, delle cessioni o presunte cessioni diciamo che in particolare ve li vengono a mente poi, se nel caso lo aggiungo poi insomma di quelli proprio più importanti che non dico che l'hanno lasciato stanno per lasciato però che ci sono varie offerte che Livorno devono banalizzare e anche i giocatori stessi sono diciamo quelli i soliti, ecco ovvero Ceccherini in primis Seligardi e Galabinov a proposito di quest'ultimo questa è una opinione mia poi ci sta che in futuro questa diventerà una una nuova mia cavolata secondo me Galabinov è uno giocatore che ha sorpreso tutti bene o male l'hanno seguito in presto un po' l'anno scorso all'Avellino perché ha fatto un discreto campionato ha fatto un bel po' di go e fra l'altro tutti discreti go quello voglio dire ora non la voglio go fare però se non me Galabinov potrebbe diventare il anche se c'ha caratteristiche diverse il Paulino 2 ovvero può essere un giocatore lì che siccome è sempre giovane perché non mi ha cavolato nei parriciali in circa 24 25 anni non sono di meno non me lo ricordo secondo me a parte che non c'è bisogno di vendolo cioè piuttosto se proprio non fa parte della rosia darlo in presto magari in altra squadra di Serie B o perlomeno una squadra che a livello di categorie è diciamo una nostra simile cioè Joe in una categoria appunto simile alla Serie B dove diciamo lui può Joe tranquillamente e fa se possibile il King Go e insomma proprio questo voglio dire voglio dire che serve questo gioco di B ma è che è cresciuto tanto perché se si va a vedere un po' qualche anno fa cioè da qualche anno fa ora c'è stata una netta differenza di miglioramento e appunto sono me a parte che l'attaccante sono quelli solito più richiesti costano di solito un po' di più di valore alcuni poi ovviamente c'è il trampista difensore il portere forte sta all'abuso anche loro quindi un discorso generale insomma voglio dire che Calabino sono me se lo fa cresci un po' dell'altro può mettere valore e se proprio lo vende lo puoi vende poi un tissue power fai una massa buona fai un po' lini piuttosto cioè che lo deve 28 anni in prestito poi quando se ne vale la pena non è titolare e guarda quanto l'ha rivenduto è una sbotta di valini soprattutto per una squadra di mellivorno e soprattutto anche se è sceso di prezzo sarebbe insomma fine discorso Calabino ora io non ho da dire altro perché bene o male diciamo le vostri cru sono vesti ora ripeto come dio sempre ci dovesse essere qualcosa altro ma la mano l'ho scritto sotto nella descrizione del video cioè questa era una cosa un po' generale e fra l'altro diciamo altri boss che non le voglio dire perché ho paura poi di farci come la sorta di mycon la figuretta e come ho già detto aborti di ancosi che poi in realtà non sono veri o perlomeno non sono state ufficializzate al 100% e comunque vabbè darlo di uguale sul discorso dei possibili acquisti e possibili cessioni diciamo che alla successione c'è a sentire il carpi che poi fra l'altro dopo pubblerò la nostra posta del carpi che non so se lo sapete ma probabilmente si che è uscito il calendario che infatti dopo vi dirò ciò parlerò dopo del calendario il carpi è la prima giornata in casa si c'è la nostra il loro carpi insomma il carpi che vuole mazzoni e almeno riposi mazzoni importa e poi per quanto riguarda i possibili acquisti c'è allora quello un pochino più fattibile che sembrerebbe tra virgolette no sa che la gioia nebbe diventa realtà coser o coser da vicenza poi c'è andando di altre cose magari meno fattibile ecco poi c'è l'esterno sinistro da Lazio filippini che garba uno sbotto di squadre poi c'è lo svincolato Mitrovic che è un attaccante classico nel 1992 secondo me sarebbe comodo come giovane magari lo schiocchi lo pide lo schiocchi in presto a qualche parte se proprio non lo fa già e poi c'è un interessamento nei confronti non solo di Livoro ma di altre squadre di Volpe che è un altro giocatore per il classico nel 1983 insomma comunque ciononostante il nostro amico Ardo ha detto che dopo Jefferson il mercato di Livorno è a regola chiuso io allora non capisco che ci sono mai state trattative ovviamente io sono un tento più trattative ci sono e più mi garba ecco e niente comunque io direi che Ardo qualche soldino anche se poi la spesi sì qualche soldino e la spesi e niente diciamo che secondo me la rosa è quasi il complesso poi bisogna vedere la lampa a campo ma comunque proprio di campo e per vederla dicevo sto tornando i scorsi di prima è il calendario è uscito il calendario e ve lo schiocco ora qui via detto questo io non voglio dire altro spero che come di esempio che questo video vi sia stato minimo utile e vi abbia chiarito un maglino manto un po' qualche idea che non avrei sentito e e niente detto questo ci vediamo al prossimo che probabilmente sarà penso il penultimo video riguardanti il carciopercato estivo del Livorno via detto questo ciao a tutti ciao 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 ciao